una buona domenica a tutti bentornati su panorama notizie oggi domenica 25 novembre sono le ore 16 e 49 una trasmissione tutta domenicale perché perché è un momento particolare del di una giornata diciamo non particolarmente bella infatti se uno apre la finestra si rende conto il perché oggi mi sono dedicato a fare panorama notizie perché altrimenti sarebbe stato bello una domenica talmente non è neanche molto caldo andare a fare una bella passeggiata da qualche parte ma non è gradevole la cosa magari è meglio stare in casa al calduccio ed eccoci qua con panorama notizie sulla nostra pagina facebook sul nostro sulla nostra pagina di youtube e sul nostro sito www.spazioinformazionelibera.com le novità allora spazio informazione libera è diciamo una delle tante attività che a cui io dedico la mia passione ma ce ne sono altre tra cui la mia pagina di steter tra cui il mio account di instagram che da poco è diventato account aziendale e da diciamo inizia ad avere qualche follower no quello che mi diverte tantissimo su instagram è fare le storie e vi invito a venire a vedere stefano terraglia steter 1967 è il è il nome utente per per venirmi a trovare e per seguirmi ci sono delle storie particolari anzi ne voglio fare una proprio in occasione di spazio informazione libera mi diverte tantissimo allora faccio così come nessuna connessione a perché avevo messo avevo messo il la modalità aereo in virtù del fatto che stavo facendo spazio informazione libera ecco è tornata la connessione adesso faccio la storia la storia sono 15 secondi da dedicare alla storia ed eccoli qua adesso giro metto no tristezza no non metto niente non è non metto il super zoom metto praticamente normale eccomi qua poi dopo magari me la edito per benino è una volta che finita la trasmissione allora ciao a tutti no aspetta brutto vedete che non è ecco adesso lo cancello la faccio è pronti pronti attenti salve a tutti in questo momento sono in diretta per panorama notizie eccomi qua per questa piccola storia per poi brutta mamma mia che brutta no la rifà no vabbè andiamo avanti andiamo avanti ok allora le novità più o meno sono queste le notizie di oggi sono altre adesso entriamo nell'ambito della tecnologia e come vedete anche la grafica è rinnovata e questo ci ci fa fare qualche passo in più allora la tecnologia facebook maxi evasione in italia ecco la multa da pagare pensate un po facebook ha concordato con l'agenzia delle entrate il pagamento di 100 milioni di euro in questo modo si chiuderà un contenzioso avviato in seguito alle indagini fiscali sulla società statunitense svolte dalla guardia di finanza dalle indagini era emerso il mancato versamento di imposte per svariati milioni di euro tra il 2010 e il 2016 la cifra concordata corrisponde al totale delle imposte che non furono versate con la giunta di alcune sanzioni decise in seguito all'inchiesta l'iniziativa rientra in una serie di attività messe in campo dall'agenzia delle entrate per verificare eventuali mancanze da parte delle grandi aziende statunitensi di internet nel pagamento delle imposte in italia e si fanno sempre più pressanti no queste multe queste cause queste diciamo come si dice questi contenziosi internazionali fra l'europa e facebook e fra l'europa e google anche allora questo non lo so bisognerebbe ricercare tutto questo attraverso un'analisi politica ed economica non si sa se effettivamente queste grosse multinazionali stanno violando in qualche modo la legge oppure se c'è proprio un eccesso di zelo da parte dei vari governi da parte dei vari stati dell'unione europea nei confronti di queste multinazionali perché è diciamo e allora secondo l'europa secondo quanto diciamo è il la situazione attuale politica è l'ora di farle fuori cioè io non vorrei che ci fosse questo questa volontà perché perché è sempre un è sempre una una noia per quanto riguarda l'organizzazione mondiale delle cose no avere delle piattaforme nelle quali le persone si confrontano si mandano messaggi mandano post criticano a livello politico si formano delle tendenze vere e proprie questo mina molto no il il potere istituito in una forma diciamo di populismo multimediale di populismo di piattaforma di populismo di social questo influenza quindi le scelte politiche in quelle democrazie nelle quali c'è bisogno di una una certa diciamo di un certo orientamento preciso che fino a qualche anno fa mi sto parlando fino a che non i social non diventassero una moda ecco era orientato dai miti a tradizionali dai giornali della televisione ed era molto più facile perché bastava cambiare un direttore bastava a cambiare un consiglio di amministrazione bastava essere compiacenti o meno anche a livello di tra virgolette scambio no di favori grandi favori orientare quella che era quello che erano i tg nazionali giorni maggiori testate giornalistiche per fare diciamo per muovere le coscienze questo non succede più adesso oppure sta sempre diminuendo ogni ogni anno sempre di più perché i social network sono proprio il i generatori di tendenza quindi è è a parer mio questo diciamo siccome le piattaforme sono proprietarie chiaramente chi devono andando possono andare a colpire i singoli utenti ma pare il mio vanno a colpire proprio i maggiori azionisti i responsabili di queste di queste strutture è una mia idea è un mio parere va preso con le pinze io non però essendo tutti i giorni sulla rete vivendo in qualche modo nella rete sia dal punto di vista artistico che da per quanto riguarda notizie quant'altro ho questa percezione bene andiamo avanti adesso e parliamo di di una cosa che fa piacere a tutti no un po venirne a conoscenza perché spesso non lo siamo e quindi credo che sia piacevole tra virgolette anche questo sapere quanto tempo passiamo su facebook e l'articolo di a news ci dice dopo la funzione tempo di utilizzo sviluppata da apple e il digital well being di google progettato per android anche facebook sta per lanciare uno strumento per monitorare il tempo che passiamo sul social network si chiama your time on facebook e sarà disponibile tra qualche settimana il rilascio dell'opzione avverrà gradualmente attraverso l'aggiornamento dell'applicazione si tratterà di un semplice grafico a cui si accederà dal menu impostazioni e privacy e che mostrerà il tempo passato dall'utente su facebook secondo il sito tech crunch si potrà impostare un timer di utilizzo superato il tempo massimo sul display comparirà una notifica ma facebook non bloccherà l'uso dell'applicazione come succede quando si imposta il timer su un telefono ios per esempio ma comunque continuerà a funzionare per gestire meglio il proprio tempo sul social facebook chiederà agli utenti di scegliere quali contenuti preferiscono visualizzare all'interno del proprio feed e suggerirà di sfoltire il numero di pagine amici seguiti ecco questo è diciamo un filtro perché io sono convinto anche che vedo che ogni tanto il display di destra traballa credo che questa sia una cosa purtroppo di trasmettere lo schermo dell'ipad in contemporanea alla trasmissione sia da evitare la prossima volta magari costruiremo in altro modo la grafica vediamo un po così non mi piace bene torniamo a noi allora il tempo sui social bene filtrare quindi contenuti perché chiaro che allora facciamo un esempio con tutte le attività che vengono in qualche modo proposte per esempio le storie che oramai ce l'hanno sia facebook che instagram che che non so ma comunque i filmati le foto i post e risponde a quello e risponde a quell'altro e poi ti prende la rabbia perché quello lì ti ha scritto una cosa la devi rispondere alla si apre il ramo di discussione che va avanti per ore e poi uno deve uscire si rimette a rispondere per strada e poi controlla e poi c'è la la notifica di quello di quelle quell'altro ecco tutto questo occupa del tempo veramente del tempo io guardate ragazzi che l'opzione che hanno messo su ios io utilizzo iphone per quanto riguarda il tempo di utilizzo guardate è mostruoso quando uno può poi tra l'altro uno può controllare volta volta questa attività tramite questa opzione ma di default arriva una notifica arriva una notifica la domenica nella quale ci sono specificate tutte le varie attività svolte nel con l'iphone e il tempo di utilizzo tempo di utilizzo per ogni singola applicazione guardate che si aggira sulle due tre ore il giorno e una volta può arrivare anche a picchio faccio storie faccio cose cose particolari edito faccio filmati è chiaro che magari posso essere giustificato forse un po di più ma chiaramente questo tempo è tanto noi dedichiamo molto tempo alle attività in rete specialmente poi quando finisce con l'iphone c'è chi ha il tablet apre il tablet chi si mette davanti al computer tutta la sera come faccio io d'altronde e questo tempo è tantissimo cosa succede succede che forse magari quali saranno i disturbi che tutto ciò può proprio potrebbe procurare non si sa forse magari anche delle vere e proprie dei veri e propri problemi a livello neurologico non lo so bene parliamo ancora di tecnologia parliamo di instagram perché un parrebbe che un bag abbia messo a rischio le password degli utenti una falla di sicurezza ci dice l'articolo su instagram ha esposto le password di alcuni utenti a comunicarlo è la stessa azienda le proprietà di facebook al sito the information che ha riportato la notizia ironia della sorte il big il bug ha coinvolto una funzione di privacy che consente agli utenti di scaricare tutte le informazioni che instagram ha su di loro oh mamma mia brutta brutta questa cosa la funzione è stata introdotta in ottemperanza al gtpr entrate in vigore da fine maggio scorso secondo quanto riferito da instagram la falla avrebbe causato l'inclusione del password di un profilo all'interno dell'indirizzo web usato per scaricare i dati personali questo link avrebbe quindi esposto la password ad altri utenti in grado di accedere allo stesso computer il problema si spiega il problema spiega la società è stato risolto e ha interessato numero ristretto di persone grazie a dio instagram ha quindi già notificato la falla agli utenti interessati e chiesto per precauzione di cambiare la password e insomma 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 è sempre di più questi queste notizie riguardanti a dati violati a password rubate io poi tra l'altro un problema che non riesco a risolvere ho già fatto delle mie dimostranze a alla community di google io non riesco più a scaricare i firmati che sono stati salvati nello spazio di foto google io salvo tutto lì però alcuni firmati non vengono scaricati quindi sono la si possono vedere ma non si possono riscaricare quindi è un vero un vero problema e di problemini del genere ne ho visti diversi ho visto un facebook strano con delle pubblicità piantate in cima dei giochi che non vanno via che ho dovuto bloccare e sto bloccando tramite il a block ho dovuto addirittura cambiare una riga di codici all'interno della della lettura della pagina per evitare che queste pubblicità venissero vanno poi brutte non so ho beccato di un virus girando in qualche sito magari che non era tanto sicuro oppure non so non ne ho proprio idea però vedo che le cose stiano cambiando stanno cambiando un po in peggio tra l'altro è il problema di google che ho appena citato si verifica non solo sul computer di casa si verifica sul telefono sull'ipad e anche probabilmente ora devo fare una verifica se questo avviene anche su computer di tipo microsoft non lo so ma è chiaro che piano piano cioè dati su dati su dati e dall'altra parte una squadra di imbecilli una squadra di imbecilli che tendano in qualche modo di entrare dentro rubare fare comune a compiere le reati informatici c'è la quantità di dati enorme probabilmente tutto si svolge con molta più celerità rispetto a quello che dovrebbe essere la in parallelo la sicurezza quindi è molto più veloce il modificarsi delle piattaforme renderle più complete eccetera però mi sembra che lasciano indietro i progetti relativi alla sicurezza di queste piattaforme perché chiaramente ci sono i nostri dati ci sono le nostre foto ci sono i nostri filmati ci sono tutta una serie di cose che dispiacerebbe veramente perdere e tra l'altro per chi ci lavora da un'attività che è legata a queste piattaforme chiaramente peggio ancora perché si tratta di perdere diciamo anche soldi denaro bene adesso chiudiamo la tecnologia passiamo alla al benessere e alla salute parlando dei magnifici kiwi sono buoni sono sono buoni eccoli qua un kiwi al giorno previene l'influenza ci dice l'articolo il kiwi è il miglior frutto che si possa consumare in questo periodo dell'anno quando le giornate si raffreddano e l'organismo deve avere buone difese per far fronte ai primi mali di stagione e lo sappiamo benissimo che il kiwi è pieno di tante cose tra cui è fonte di vitamina c ci dice dell'articolo ne contiene più degli agrumi la più efficace per rinforzare il sistema immunitario ma il kiwi possiede anche altre proprietà tra cui è ricco di fibra e acqua ed agisce come lassativo naturale consumato a colazione evita la stipsi e garantisce il buon funzionamento dell'intestino tra i sali minerali spiccano il calcio il ferro il fosforo e soprattutto il potassio per questo motivo è indicato per chi soffre di ipertensione ed è anche antianemico grazie alla vitamina b9 che stimola l'assorbimento del ferro previene l'accumulo di colesterolo cattivo e migliora la circolazione del sangue è utile in caso di varici ed emorroidi contiene inoltre vitamina e ed è una un ottimo antiossidante per l'autunno e anche l'inverno abituati a ma bisogna abituarsi come ci dicono loro abituiamoci a mangiare un kiwi a colazione aggiunto allo yogurt naturale una macedonia di ecco mi fermo qua perché non sopporto quando danno questi consigli da una parte c'è chi dice la fetta biscottata dall'altro c'è chi dice chi dice il kiwi dall'altra c'è chi dice che non bisogna mangiare quello e quell'altro insomma io sono convinto che se uno vuol fare una dieta è bene che vada da uno specialista da un medico è un medico oppure un dieti una dietista e si faccia appunto consigliare al meglio perché la dieta non è da fare così è perché magari una persona può avere più bisogno di io lo dico anche questo da infermiere una persona può avere più bisogno di determinate cose rispetto ad un'altra ed è bene che sia valutata da un professionista del settore al quale si affida tutta la nostra fiducia e di conseguenza di sicuro un buon professionista saprà indicare la dieta migliore quindi che il kiwi sia un buon frutto che faccia bene alle morroidi che abbia vitamina c ecco mangiatelo quando vi pare ma ora che questi qua si mettino a dare le ricettine non lo trovo molto diciamo di buon senso perché lo fanno tutti è questa cosa chiunque scriva due righe sul l'alimentazione si sente il dio in terra il vangelo no attenzione perché per queste cose esistono persone che hanno studiato si sono laureate hanno fatto determinati studi e sono in grado di poter valutare la persona che gli sta di fronte tra virgolette colui che vuole richiedere una dieta e dare le indicazioni più giuste per fare in modo che questa persona riesca ad arrivare suoi obiettivi che siano diciamo estetici o addirittura obiettivi che possano diciamo essere obbligati per curarsi da determinate patologie quindi cioè il giornalista faccia il giornalista giusto ma smetta di dare consigli di tipo medico la dieta la devono scrivere e prescrivere gli specialisti del settore bene 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 la domenica continua solo le 17 e 11 minuti ma io vi lascio al vostro tempo libero anche perché domani e lunedì e ricomincia la settimana avrete voglia di riposarvi di sicuro per quanto riguarda panorama notizie abbiamo concluso vi ricordo che panorama notizie lo trovate sulla nostra pagina facebook di spazio informazione libera sul nostro omonimo canale spazio informazione libera su youtube e lo trovate anche dove lo trovate non lo trovate più da nessun'altra parte per ora anzi guardate stavamo studiando il modo di fare una copia di spazio informazione libera per per instagram per la tv di instagram e gtv ma il formato richiesto è il formato verticale no per impaginare il proprio video e non so come mai non ci sia altra possibilità tendano a quel formato lì perché probabilmente si vede meglio perché il telefonino per dedicare fa molto cade di mano forse quali da girarlo e quindi c'è significa cambiare completamente la grafica oppure inserire questa grafica all'interno del verticale lasciando due belle bande nere da riempire il sopra e sotto dobbiamo studiare un po il formato e poi vedremo come organizzarci al meglio e niente è finito davvero vi saluto e vi do appuntamento per la prossima edizione di panorama notizie oppure panorama notizie special ciao a tutti ciao 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 ciao